Bami un po', poi vado giù a prendermi qualcosa da mangiare Cambio per definito Cambio per definito No, non è Vieni, giocherò di nuovo con la macchina del mer Mattia Rossi, Poliquino, Rocket League Rega, ma perché ho Perché cazzo ho un cappello? Tu hai diventato messicano Ti piace un altro che chiama Busterbot? No, no Il culo Tanto cazzo Oh no, ho fatto dupe Bello, ho preso un muro e meno male Oh, aspetta No Mamma mia, ho deviato Ti ho tirato un cazzotto La palla va al centro La palla va al centro Bellino Bellino E' un po' lì E' un po' lì Sì, questo è l'unico finalmente segno Mamma mia, quanti anni E' porca puttana, è abbastanza meritato Cioè Ma oddio Ma è veritato Vabbè, non è arrivando neanche a Matt Meglio soltare in due che uno solo Esatto, volevo rubare un po' l'altra No, perché a Matt ha lasciato il gruppo? Cosa? No E' un po' l'altra di setta la c'è per gruppo Che cavolo dici, c'è con te? No, è finita No, ma ti vedo che sei ancora in game Ma non capisco Forco E' vero, ma ti ho lasciato il gruppo Però c'è ancora in partita Jack's for shunter Si C'è baggiatito Sei drogato in gioco Hai lasciato il gruppo Ma cosa? No, ma fa fanculo No, dai Madonna Ma cosa dice? Si droga No, chi è che mi spinge? Vabbè, rossi forse O un altro rossi Oh, ho preso Ma è anticipato, va bene? Vai davanti, davanti Però mi sento che lo ribatto e mi dito Quindi io sto un attimo Di qua Lui la ribattene indietro Aspetta Che cazzo ha fatto? Che cazzo? No, come tenerela così? No, raga, ma per un attimo il gioco si è fermato No, non li scienca Tra l'altro importa Ma non è mai che scolore Ok So Sono cascato Ma stagli da un ruolo 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 Sono stronzo Di nuovo ho preso tutto il puto Rossi? Mi dai un bacino? Oh Un biolo No, vede il busto Pavo la male Non è Sto infame Oh, è mezzo Più o meno Più o meno No L'ho lasciata Ok? Buona? Più o meno Scatto io Scatto, scatto e poi torno indietro Scatto, scatto Scatto, scatto Scatto, scatto Ah, ah, aiuto Non è Non è Non è, non è, non è, non è, non è Eppalala No, l'ho mancata No 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 Corrego Scatto Scatto Cazzo Ah, uff, bravo dai E non riuscire a prenderla neanche io, ma che è Via dalle palle Via dalle palle Via dalle palle sudate Via dalle palle sudate Poteva esser bella Gustoso Gustoso la palla così No, vaffanculo No 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 Non ci arrivavo da sinistra Mi ha spinto Rega, mi ha spinto sto deficiente Ho visto Pure Io bosco Niente Non la potevi togliere da là No, dovevo arrivarsi più veloce Cioè, se arrivavo qui Non ci arrivavo di più Ma così Sono arrivato giù a pelo E poi basta Ok Parla avanti Eh, è in mezzo Guarda, va, è perfetta sta palla La palla Non ho messa perfetta Tripletta Signori Metti che vaffanculo Non te voglio Che palla Che palla Ok, io curavo finalmente Cattare finalmente, cazzo Votto l'osco del pallone Ecco, perfetto Ah, eh No Mamma mia Mamma Sono andato troppo avanti Cosa non ho parato Cosa non ho parato Eh, non ci sarei riuscito E' andato troppo avanti Per prendere il bust Se l'ho tornato Ma non ce l'avrei fatta Ma sto bene a martiniello Però questa qua tira indietro Mi sa, eh Vero No, no, veramente No? Vai in avanti No, ragazzi Guarda la rigioca E invece Guarda che bella questa Ma guarda che bella questa Cioè Com'è stato entrare da lì? Eh, perché aveva il rimbalzo che andava in dentro Ahhhh Loro 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 in senso Anti-orario Quindi è Oh, mega lull Ok, scatta il bon crazy Ok Vado un po' più avanti Che magari mi scappa di farne Nooo Mi scappa di Mi scappa Mi scappa Mi scappa Mi scappa Ah, no Quindi se vuole un papo No, volevo anticiparlo Se l'avrebbe presa prima invece l'ha presa dopo Vai e mezzo Oh! Nooo L'ha ancora dato troppo Eh, poi arriva Rossi che l'ha salvato Eh, l'ha preso Eh, l'ha preso Ma... Cos'è? Vai Rossi, vai Rossi Era bruttissimo Tutto tua Non avevo il busto Bruno Nooo Porco tutto Tu non la prende, no? Sono un po' scemo Sti in mezzo, eh Vai Matt Odio Bello 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 Alla cieca Bello Eh, era pure esploso Oh, sì Colpo d'effetto Ciro esploso Ma che vuoi? Che tocchetto Mamma mia Alla per l'harbor Che bello Che tu assist È il millimetro Ok, bene, parlo Il lavoro è finito A meno che non puoi stare anche tu in attacco Tanto adesso sono 5 a 1 Sì, mi ha fatto 30 secondi dai Ho già fatto una tripleta Ah, ah, for Cotto gli scord Nooo 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 Bravo Scherzate Scherzate Nooo Entrava anche quella Per poco Buono MVP Easy 3 gol Perché no? Ma che... Ma che cazzo? Oh dai che mi mancano 8000 punti Madonna Marvo vuoi che torno al menù che ci vuole così cambi la macchina Nooo Non ce la faccio adesso Cambio il risultato Prendi il 3 Boh, fatto Vai No, next Vai vai Next Next meme Che oro sei, Matt? Oro 1 No, dai, vedi quello oro Io sono oro 1 Ah Ma è base oro 1, vero? Cioè No, no, oro 1 vuol dire che sei in alto C'è bronzo, argento, oro, platino Diamante Cioè, è vero, guardi con oro, è vero C'è Rossi che ha un esagono che non so cosa sia Cioè, quello lì è argento Quindi sono sopra l'inter Un bel po' anche Excuse me? C'è un problema? Di tutto ho una lega sopra la mette sei Adesso voglio vedere il mio livello A fine partita c'ho anche il mio livello No, la tua partita è terminata MET è uscito Ma che cazzo dici? No, Rossi torna Rossi torna Eh, si è uscito Torna No, io non sono con voi Eh, punto Esci Esci Oh, che co... Si gode No, ragazzi, non posso uscire Tutti in banno, no Vai, come no Ma io pensavo di essere con voi Eh, no Eh, è una tarda Ok, intanto che MET arriva Io mi apro un pacco Un pacco Un pacco Non ho anche un livello per prendere un pacchetto Vabbè Nel momento di importazione Uhhh Vai, caccialo fuori, che c'è dentro? Un pacco Oh, Barbo, andiamo a fare un... Uh, uh, figo Un pacco Un pacco Uh, uh, figo Andiamo a fare un coppia? No, arrivo a due minuti Un pacco 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 Dai Matt, ci muova Adesso non farò neanche più gol, così non si stoppa il pientro Ottima mozza Questa è un colore melma, non so Guarda, dove vado? Si riflessi arancioni, a cazzo Perchè hanno fatto gol, adesso Adesso la mia sembra un gol Mamma mia Marcello Comunque appena hai finito rotti Un minuto e trenta Perchè rimedici rinno in gruppo Ma si ma In vera, c'era la ragione in gruppo Ah ecco cosa che cazzo ha detto Ecco cosa che ha detto prima, quei coglioni di un gioco Ci ha buttato fuori in partita Ci ha buttato fuori Bene Bene Beh che gli ha le fariettine fariettine Ehm 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 Ma no ma non fate gol Cazzo Ehm 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 Nooo Uh Non è entrata Sì è un'abbandonato Un'accompto Un'accompto Dai è Torno Troppo Quanto bello è ringlassante Cosa H sono argento 1 vai forza ma qua è qualcosa sbloccato però perché ah 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 infatti infatti garage dai rossi non arriverà mai no non è vero ecco di qua ah devo invitare io devi invitarci possiamo andare da te a caso ah ok ok allora invita invita oh perché mi avete fatto uscire no tu vieni invitato è perché eri nel mio gruppo diciamo nel mio gruppo possiamo andare ok cosa facciamo competitivo 3 si ancora uno me ne manca poi io sono classificato buono 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 allora ti declinano la proposta bene che cazzo era ero un rullante si si quello il fox siamo nel futuro siamo nel 3050 vabbè ma quello di ma no baronini c'è la quello della ps ah no fermi ok fermi fermi cazzo ho preso sberra del tutto ho preso la palla vabbè cazzo la presa ma la season one c'è un sacco di cose scheletrose c'è un sacco di cose scheletrose c'è un sacco di malumi no ah si può essere timalumi perchè siamo in ottobre qui tra un po' c'è lui hai ragione what no non ci credo nooo sono esploso di cosa sono stronzi di cosa sono stronzi nooo no ma pure fu tutto il boost e non è nooo nooo rega di quanto sarebbe stata la parte più bella del mondo guarda no guarda me il voto il voto il voto devi aspettare mezzo secondi in più eh cristo sui spavano in chat vabbè 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 ora finchè sono ancora un gol aia no metto no meno male è ammortizzato in un modo un po' bruttarello vai tiraglia la botta tiraglia la botta non è niente vero no 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 era tortissimo lo poteva mettere dai oh non mi fai la scuple cazzo c'è un amico che dovrei ehm cosa nooo uh tocca lui vero se ok cazzo l'ha presa cazzo no presi no 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 mi sono incastrato no dio cristo ok questa vaffanculo sto stronto come è la spam mark no mi hai tirato addosso dai basta spengermi dio no come non mi hai visto così eh vabbò oh ma questo qua però è sempre un po' no niente non la riesco a prendere la parata la parata ma basta fammi volare sulle pareti cristo lo scogliattolo ma guarda eccola la ecco che la presa no 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 niente aspetta eh niente bravo ma cagare vai rossi vai rossi no peccato no troppo oh no eh non è bella eh cazzo ha volato ha volato ha volato ha volato 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 no no che cazzo si deve avvenire porco 2 no l'ho cannata io sono andato addosso a davide o a rossi uno dei due a rossi io ero più indietro porco 2 due minuti si può fare oh ovvio che cazzo no no eh che cazzo dai ma che palle ma di qua sono avuto un culo più culo che anima ci ho provato ci ho provato mannaggia la miseria date voi io sto più indietro se ne prendiamo un altro chi usa cioè in realtà no però eh se ne prendiamo un altro farne 4 gol è impossibile 3 si può ancora non ci credo è finita ragazzi è finita olle no però veramente c'è la li vedete che cazzo ti dici che mi fanno fare dio buono niente no vabbè nepparco anch'io da soltanto ormai sì sì proviamo piuttosto a meglio prenderne altre 4 che ok per farne 4 è no vaffanculo esplodi merda un bus però gioco di merda dammene uno cristo è troppo è troppo vabbè in mezzo vero sì aspetta dai rosti spostare in mezzo ancora poco no 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 l'ha presa sul tronzo no 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 tranquillo tranquillo bravo ok guarda l'arrivo qua guarda dai sì no no mi sono fatto qua stai dai è lì ultimo uno uno oh amica scu me lo guardo si temblete più giro bello guarda se c'è lì l'amica tanto niente davvero ma eros nevole varbo perchè hanno aspettato lo volevo prenderlo di incontrottempo e vaffanculo guarda startro startro coglione esibizionista porto pigliela pigliela bravo puoi lasciare? eh lo stavo per riusciare mi è toccata alla fine no 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 vaffanculo muori schifoso ok dai no no vaffanculo 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 no vaffanculo vaffanculo ero fermo ero installato l'ho parata ma non si è fermata te la sparita no l'avevo l'ho presa però non mi fa prima dovevi pararla la spalletta eh si quindi lui gli ha fatto fare la gobina gli ha fatto male la gobina esatto cazzo è dentro pure ma perché niente in tre anzi eravamo in tre di torno a palla ma non deve stare dietro cioè in caso di pericolo io non so mica stare in porte quindi in caso di pericolo non uscirà mai con la palla dai me è tenuto più adesso si non sarei mai in oh eh mo entra di suo però no ovviamente però entra pure scommetti se non andrà mai sta palla oh che palla come questo cazzo di qua giallo è sempre in mezzo ai coglioni com'è possibile ma infatti come è possibile che vuoi stare di nuovo qua ma guarda che roba ma che busto c'ha ah c'è quello eh vaffanculo un altro liscio ma 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 questo è finita vediamo quanto sono classificato vediamo un po' bronzo bello abbiamo una partita bello bronzo bronzo 3 c'è di peggio minchia io beh oro 1 io beh oro 1 oro 1 a ca**o sei imbarazzante sei imbarazzante me lo so perché sono oro 1 sono oro 1 2 3 eh vabbò divisione 4 voi in che divisione siete? 3 divisione 3 ok abbiamo praticamente una lega di differenza io e martinello ok stop porca sì e due con barbolini io porca vacca a sapere perché però perché tu cioè ora siamo contro contro il diavolo ed è gigi non possiamo perdere no e gigi no gigi no ragazzi fa paura gigi gigi 7 7 7 7 proprio non si può perdere questa è il numero della dark perfetto ho già mancato il boost buono così no eee sì ah no eee chi è che mi spinge dio stronzo sì dove si è composta? è un'altra competitiva sì sì ok va bene magari vorrei cambiare quanto vi interesse vuoi scalare di livello? in che senso? eh per la la come si chiama? per la classifica dio porco basta spingermi dio schifoso per il torneo? oh 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 no mi spingerebbe no non per il torneo per la classificata come si fa dio porco perché non ho più boost? non è cosa ha come si fa a scalare come si fa a scalare di classifica ragazzi vincendo vincendo punto ok ma tipo quante vittorie è un grado per arrivare da qui parvo vediamo di vincerle prima di dire come si sa no aspetta scherzo 10 vittorie per andare in una lega io faccio 10 vittorie e vado in oro in oro no 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 me l'ho spostato io vuol dire che ho fatto qualcosa come tipo 20 vittorie io no è dio schifoso se mi fatti 20 vittorie io mi dissocio eh bro può darsi che ne abbia fatte 20 no no dai ma come cazzo faccio a lasciarle così dioboy ma guardate non è possibile ma perché io guardo no guardo ma veramente olle olle comunque grazie rossi per l'assist ma io non è che lo toccate lo squiste lì indietro eh non c'è non è più da lì indietro io sto in porta adesso dioboy mi sono rotto il cazzo di prendere gole io non volevo però perderne un'altra chissotillo mi sta proprio sul cazzo perderne un'altra poi con giri dai donna no che cazzo mi sta laggando mi sta laggando mi sta laggando e' un po' storta vai rossi da v'è prenderla no barbo no barbo no troppo cazzo dio bosco la valle dei boschi nooo nooo si dai ma che palle ma tu guarda anche adesso che la gara sta sto coglione dove è arrivato no si si non è stato finito il suo giro eh non è stato finito il suo giro perchè mi viene dietro però oh oh nooo nooo zio ma anche credo zio 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 ma senti che parata da solo se l'hai detto eh? ho sentito che parata ma senti che da solo questo oh oh attenzione no volete andare DIO MERC vai rossi in mezzo rossi eh che sa prendo il sicuro no vado guarda mia no vuol dire è fallito vuol dire è fallito cosa cazzo vai no no ok ma ma non è possibile una palla in mezzo di omerda no eh eh si cazzo eh vabbè dai che rimballa ha vinto di un po' ma veramente non muore di testa tagli all'altro rimballo gioco per favore no perchè non ti può no 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 che culo no cazzo vado tirarla su no no uff che lavoro fa mai giù ma per due colline non la prendono sempre questi ma che è no uff no niente almeno non la prendiamo mai uno sconvolto uno sconvolto l'altro ha perso ma si può anche retrocedere? mmm si bene mi è partito di via adesso che bello si può retrocedere? qualcosa che non volevo sapere proprio ah beh quattro gol non li facciamo mai è un gol ogni trenta secondi e guarda che si possono fare molto meno tempo un gol no certo si diventa un gol potrebbe essere un po' un problema ma questi hanno gli occhi anche dietro questi? gli stavano inseguendo quel buco ma hanno saltato? vai in porta dio schifoso ok guarda ma prendolo va eeeh cos'è un po' lo dico vorrei sapere no ma che rango sono questi? saranno tutti oro 5 no 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 mamma mia no no c'è porca troia, la prendo sempre la parola, non me fa tu lì c'è sta partita uno eh non ne fa loro di miso eh no no zero gol, dai, me preme se me ne un gol, possiamo farlo almeno uno? se ce la concedi Gigi? poi si spunti il fingo, io voglia dai dai scoprivo che da qui sono due palle next, dai dobbiamo fare delle vittorie next dobbiamo fare delle vittorie oh no, ora sono Oro 1, divisione 2, noooo ho perso il coso ma le gustano sempre lì aspetta un attimo che, dove sei in divisione Davy? Io sono oro 1 divisione 2 E prima ero? Sono oro 1 e oro 1 Si va a divisione 5 quella massima credo del Eh perchè allora io sono in divisione 4 Eh tra poi sei in argento Quindi tu tra l'altro dovresti andare in quella dopo Oppure vai nella 5 e poi vai in quella dopo Oh Porca puttana questa la voglio vinta questa Eh concordo Porca puttana Senti Allora Valla a prendere Gatto Ah io Intanto l'hai già presa male partiamo da questa Beh vai in difesa metto vai in attacco No Non possiamo provare Puttana vacca Che facciamo? Vai Dio Oh vaffanculo 3 me l'han presa Dio cristo Vai Rossi vai Rossi vai Rossi No No Poppo La tira Olipino Eh bravo barbo No l'ho spinto Noo Che liscio Vai Rossi Te la fate eh? Non lo so Ma dipende se la toccano No No Cazzo 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 No No Cazzo No E' tuo Arbo Devo darla un po' me Eh Rimazzo bene? Niente Questa non entra? Potete non entra? Vabbè era meglio allontanarla No 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 comunque gioco come quelli di prima adesso cioè io rimango in porta a questo Oh Oh Andiamo dritta No Porco No No Porco niente esco una volta una esco la prima volta che sono uscito perchè andavo a prendere quella palla lì l'unica volta di cui sono uscito e rossi senza boost catto io adesso mi ha fatto venire il nervoso questi stronzi no, sono cotto il bad questi per dire una frase vai, ti prego no, vaffa culo morite tu di dio schifoso tu esplodi ho rotto i coglioni c'è uno sul primo rimbalza dai, porca puttana la tengo si, si non ci credo non ci credo non ci credo ma non ci credo muore veramente schifoso oh che cazzo no 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 che culo che culo no porca puttana vai 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 mi sfida vado ti rimporta ma non EH comunque perchè non mi ha dato la parata anche prima ma prima non ho la parata rossi prima no l'avevo presa io però non mi ha dato la parata allora dobbiamo trovare uno che faccia dale e uno che invece faccia l'attaccante io sono difensore ok io a questo punto voglio che faccio io al e te rossi invece me ne attacco nooo non hai idea va in porta dio boia non c'è andrà mai qui era quel tiro non c'è andrà mai sta palla no porca dio il busto sta indietro che brutta palla la scaccio via attraverso sopravvoli con le storie sto troione da un minuto un minuto per un gol cazzo ciao e rossi rossi nooo 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 dai non entra mica ma non c'è no dai no dai guarda dov'è e' affanculo l'antoclata aspetta aspetta è ancora in mezzo dai ma sono in tre in porta sono in tre in porta porco dio neanche lui giocare così ora 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 non è tutto questo che c'è nessuno abbiamo 20 secondi vai barbo ok no non è entrato nooo ma fa culo va bene 10 secondi 10 secondi 10 secondi andrà fuori ma ci stronzi mi ha bloccata bello vai no ma ho fatto volare ho fatto volare nooo all'ultimo stanno entrando dai cristo merda merda nooo ordino tre mi ha fatto andare dio casso no è divisione tre anch'io divisione due no sono declassato divisione tre dai oro io lavoro uno porca puttana vabbè facciamo un'altra ma io non ho capito cioè tu prima scendi tutte le divisioni poi scendi di rango cos'è non direi